Mi chiamo Francesco Balsamo e sono un contadino siciliano e oggi sono letteralmente furioso, ma quale furioso? Sono fuori di testa. Perché sono fuori di testa? Perché i nostri prodotti ormai non vengono considerati più. Lo Stato italiano ormai dell'agricoltura non gliene frega più nulla e noi cosa siamo costretti a fare con le nostre arance? Ma cosa dobbiamo fare? Ma cosa dobbiamo fare? Perché ormai non abbiamo più a chi darle. Sappiamo benissimo che cadranno a terra, perché ormai allo Stato italiano interessa la Spagna, interessa il Marocco, interessano questi paesi delle arance siciliane. Non interessa più a nessuno e io ho trovato la soluzione. La soluzione è questa di qua. Io mi ci faccio lo shampoo. Lo shampoo con le arance siciliane mi vado a fare. Perché mi faccio lo shampoo? Piuttosto che venderle a 25 centesimi. Il che è una vergogna davvero assoluta. Perché questo prodotto viene sudato da noi agricoltori siciliani. E dico nessuno. E nessuno può permettersi di offendere i nostri prodotti. Perché noi ci dobbiamo fare lo shampoo. E parlo a nome di tutti gli agricoltori siciliani di questa cosa. Se alla fine del video ti piace e la pensi come me, condividi questo video. facciamoglielo vedere in Europa le arance migliori quali sono. Avete visto il succo? Ancora scolo. Non sarà bellissimo da vedere. Ma io farò davvero così. Anche perché le piante ancora sono caricate. Ma chi le dobbiamo vendere? Io mi sono dovuto reinventare facendo il porta a porta. Quello che non si fa più da 50 anni l'ho dovuto rifare. E quanti come me ce ne sono per dare alla gente un prodotto sano, naturale, genuino, consegnato lo stesso giorno. Sanno tutti benissimo che almeno mangiano merce fresca. In giro. Ma cosa si trova? Cosa si trova se facciamo entrare i prodotti dalla Spagna, dal Marocco, dall'Argentina, da tutto il mondo? E da noi cadono a terra. Ed è questa una vergogna assoluta. Che i nostri governanti hanno permesso e noi agricoltori siamo in ginocchio. Così siamo. Mi ci metto. Siamo davvero in ginocchio. Grazie a voi famiglie privati che ci date la possibilità di fare la spesa, di mettere la pentola. Perché ormai siamo arrivati davvero all'osso. Assolutamente. Non si può tollerare che le nostre arance, i nostri agrumi cadono a terra. Perché sono i più buoni del mondo. Abbiamo la terra. Abbiamo l'Italia. Abbiamo la Sicilia. Che è la bellissima Sicilia. Quindi aiutate gli agricoltori siciliani. E parlo a nome di tutti. Perché lavoriamo e abbiamo un prodotto unico al mondo. E questo voi lo sapete. L'angus, il flamenco. Lasciamoli stare a loro. Io mi tengo. Gli agrumi siciliani.